L'emergenza rifiuti brancola nel buio e la trattativa tra Regione e Ministero dell'Ambiente si è inceppata su alcuni punti. Del tutto assenti le regole sul conferimento dei rifiuti in discarica, i tempi per la realizzazione dei termovalorizzatori. Quasi tutte le discariche siciliane agivano in deroga. I camion con i rifiuti sono stati respinti dalle strutture in attesa di un via libera. Nessuna autorizzazione assiculiana per far scaricare i camion con l'imbondizia di 106 comuni. Stessa sorte per la spazzatura destinata alla discarica di Motta Sant'Anastasia e a quella di Lentini, davanti la quale questa mattina i camion sono rimasti bloccati davanti ai cancelli. Eccezione per la discarica di Bello Lampo, che raccoglie la spazzatura di Palermo e Ustica e che stamattina lavora a pieno regime. Quanta tempistica, il Ministero dell'Ambiente chiede entro due mesi i termovalorizzatori, che al momento non sono previsti dal pieno rifiuti. Sul tavolo anche la destinazione dell'Atari, per la quale l'accordo-governo-regione prevede un conto unico centralizzato, ma incassato autonomamente dai comuni. Dettagli tecnici che dalla regione assicurano poter essere sciolti fra non molto, ma che al momento hanno provocato uno stallo. Il documento redatto ieri prevede un nuovo regime fino al 30 novembre. Nel pacchetto sarebbero previsti anche il via libera all'invio dei rifiuti fuori dalla Sicilia in nave. L'idea di realizzare cinque piccoli termovalorizzatori e l'accantonamento delle discariche di Siculiana e Gela, sprovviste dell'impianto di biostabilizzazione dell'immondizia. L'ordinanza prevede infatti che i rifiuti della Sicilia occidentale vengano conferiti a Lentini, ma al momento il regime non è stato stabilito.